Comincia una speranza storica, l'incalcolabile valore, la speranza della pace universale, che non è utopia. La vita e la fede di Giorgio Lapira, il sindaco santo di Firenze, uomo impegnato politicamente, culturalmente e spiritualmente, nel documentario Giorgio Lapira, la città posta sul monte, questa sera alle 23 su TV 2000. Un grande uomo e un profeta della speranza. Giorgio Lapira. Grazie.